il no alle nuove misure ha ricordato l'epoca del conte i quando al papete da ministro attaccava il premier nella lega ci si interroga sugli obiettivi del leader ma sul coprifuoco è saltata l'intesa politica matteo salvini ieri l'avrà ripetuto dieci volte soltanto nella riunione online della segreteria della lega lo raccontano e lo confermano diversi partecipanti poi durante tutto l'arco della giornata il leader leghista lo ha ribadito ancora in tutte le salse siamo convintamente nel governo draghi non è il governo di altri non è il governo di speranza fermo restando che sul contenuto del decreto tutte le riserve rimangono l'insistenza sulla lealtà al governo dipende dal fatto che il segretario leghista è consapevole di quale sia la domanda del giorno salvini ricomincerà con le montagne russe al governo e all'opposizione su e giù tra popolo e palazzo ripeterà la modalità papete quando dalle spiagge tirava a palle incatenate su palazzo chigi salvo poi partecipare a consigli dei ministri i cui provvedimenti salvo intese poi non sempre si materializzavano la domanda è inevitabile e lo è anche nella lega il decreto approvato mercoledì sera infatti era stato preceduto da un lavoro istruttorio non superficiale una riunione della cabina di regia a cui aveva partecipato il capo delegazione giancarlo giorgetti e poi l'incontro di tutti i partiti con il premier mario draghi della scorsa settimana avrebbe dovuto partecipare salvini ovviamente ma lui però aveva dato forfè per stare qualche ora in famiglia un'assenza che a posteriori prende tutta un'altra suggestione come se il capo leghista avesse voluto tenersi le mani libere ma chi lo conosce spiega che il figlio si è rimasto molto colpito dal recente rinvio a giudizio del padre il quale aveva dunque deciso di trascorrere un po di tempo con lui inoltre c'è stata anche la conferenza stato regioni in cui le indicazioni tecniche dei territori erano state recepite dalla ministra agli affari regionali maria stella gelmini se non che quel documento sarebbe stato poco travasato nel decreto poi approvato dal governo senza il contributo dei leghisti per dirla con un leghista di alto rango l'accordo politico diventato tecnico nella stato regioni e poi evaporato nel consiglio dei ministri come dice il presidente della conferenza delle regioni massimiliano fedriga c'è un problema politico